Siamo con un nuovo ospite nel quadromo Riccardo Pelletti di Varano dei Valgari, Matteo D'Avegna, qui oggi per un test in Formula 3, ma chiediamo subito a Matteo com'è andata questa mattina in lavoro. Questa mattina è andata abbastanza bene, siamo qui in preparazione dell'ultima gara di Barcellona e abbiamo già svolto diversi run con dei buoni tempi, quindi stiamo portando avanti lo sviluppo della macchina e adesso nel pomeriggio continueremo a provare delle nuove soluzioni in ottica Barcellona. Matteo, non è chiaramente la prima volta che tu vieni qui a Varano, ma il tuo esordio in pista venne proprio qui a Varano qualche anno fa? Sì, nel 2009 ho svolto i miei primissimi test proprio qui a Varano, quindi è una pista che sono ancora molto affezionato, ma sicuramente è una pista che mette a dura prova i piloti perché ci sono molte varianti, molte varianti lenti, ma è una pista portosa, quindi assolutamente un circuito da non sottovalutare anche comparato con circuiti magari un po' più grandi. Quali sono, Matteo, le ambizioni per questo finale di stagione della Formula 3 Open? Come team, come da Racing abbiamo già vinto il campionato con Cammy Giovesi, abbiamo ottenuto un sacco di vittorie, molte pole position, quindi non posso che ritenermi molto soddisfatto. Personalmente il mio obiettivo per Barcellona è quello di vincere nella classifica delle 308, anche perché proprio nelle ultime gare ho dimostrato sempre un grande potenziale, ho conquistato due pole nelle ultime tre gare, quindi l'obiettivo è proprio questo.